Ben ritrovati tutti a tavola, siamo di nuovo nella cucina del Trevi di Gignese con Vittorio Molinari. Vittorio, l'altra volta abbiamo assaggiato una squisita zuppa, oggi? Oggi faremo del gnocco ripieno di carne piemontese con una salsa al parmigiano e tartufo nero pregiato. Abbiamo già preparato i nostri ingredienti, quali? Le patate abbiamo, poi abbiamo il nostro ripieno di carne piemontese, di scottona, il nostro tartufo nero e poi abbiamo delle piccole accorgimenti, i demi-glas, la cialda di parmigiano e la salsa al parmigiano che sta cuocendo sulla stufa. Mariana, se vuoi iniziare a passare le patate mi faresti un piacere. Oh grazie, col lavoro anche io oggi. Prego, così. Un po' più decisa? Non le fai male le patate, vai tranquilla. Disponiamo le nostre 250 grammi di patata, che viene prima bollita, con 60 grammi di farina, 00, un pizzico di pepe e un pizzico di sale. Adesso ricominciamo a impastare fino a ottenere un composto omogeneo. Vittorio, che cosa abbiamo ottenuto dal nostro impasto? Sì, abbiamo ottenuto dei cilindretti di circa 2 cm per 2, questi qua da un cilindro più grande, abbiamo ottenuto questi qua più piccoli. Che adesso andremo col sac à poche in un movimento molto semplice e rapido e poi così, e poi andremo a chiudere. Aspettiamo che l'acqua inizia a bollire, aspettiamo per circa 2 o 3 minuti. I gnocchi sono nel piatto, Vittorio, come li presenti? Adesso vi faccio vedere. Prendiamo i nostri gnocchi, a uno a uno, li disponiamo a nostro piacere. E poi andremo a mettere sopra la nostra salsa al parmigiano, che non è altro che parmigiano, brodo di pollo, panna e burro. A questo punto la nostra cialda al parmigiano. Andiamo a mettere così. Il nostro tartufo nero. E per concludere, un filo di demi-glace e il piatto è finito. Siamo alla fine. Marianna, non ti resta altro che assaggiare? Tutti a tavola, vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova ricetta. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.